Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Flashback, cause e sintomi. Il flashback è un processo psichico che fa rivivere un evento del passato. In medicina, tale manifestazione è associata ad alcune reazioni psicologiche e, generalmente, si può riscontrare nell'ambito di situazioni traumatiche e particolarmente stressanti, esempio abusi in età infantile, disastri naturali, incidenti stradali, atti di terrorismo, scene di violenza ecc. Il flashback può essere scatenato da sensazioni, immagini, odori e rumori. Spesso, il fenomeno è indotto da situazioni ordinarie che simbolizzano o assomigliano in qualche aspetto all'evento scatenante, quali l'abbaiare di un cane o il lampeggiare di un'automobile sulla strada. Tuttavia, il flashback può verificarsi anche senza ragioni evidenti. Il soggetto può avere ricordi improvvisi, allucinazioni, illusioni ed episodi dissociativi nel corso del giorno. Durante il riposo notturno, invece, il flashback può ripresentarsi sotto forma di sogni ricorrenti ed incubi. La persona che sperimenta questo fenomeno è completamente assorbita da tali ricordi spiacevoli e può avere la sensazione di stare nuovamente rivivendo l'avvenimento motivo di angoscia, perdendo il contatto temporaneamente con la realtà. Il flashback è uno dei sintomi spesso descritti da chi ha un disturbo post-traumatico da stress, PTSD. Questa manifestazione si può riscontrare anche nel contesto di amnesie dissociative e disturbo borderline di personalità. Il flashback può verificarsi, inoltre, in seguito all'assunzione di allucinogeni, specialmente di LSD, alcolobarbiturici. Possibili cause di flashback. Flashback è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause rare. Alcolismo, disturbo post-traumatico da stress, schizofrenia. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato